Sarà a Piazza Vittorio Emanuele mercoledì alle 21 a Vallo della Lucania a fare da palcoscenico per l'evento tanto atteso dei molti tifosi della Jebison, la presentazione ufficiale della squadra di calcio e del gruppo dirigente. Un rituale che si ripete ogni anno all'inizio del campionato da quanto la compagine Rosso-Blu frequenta la Serie D. Un'occasione importante per i tifosi che in tal modo avranno la possibilità di conoscere i nuovi protagonisti del campionato ormai alle porte. E quest'anno saranno tante le novità a partire dalla presidenza affidata al patron Maurizio Pugliesi all'area tecnica gestita da Alessio Martino per arrivare poi ai numerosi innesti che hanno riguardato l'intera squadra. Intanto dopo la sconfitta in Coppa Italia per mano del Savoia che ha battuto la Jebison per 2 a 0, domenica ci sarà l'esordo in campionato con il turno casalingo che oppone i cilentani alla Fidelis Sandria.